musica 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 bentornetti stronzifritti come potevo immaginare il suono era troppo alto cazzo cioè praticamente per 20 minuti di video non si sente una beata mazza fritta alla peperonata di limone cioè dal momento che io cammino sull'erba un cavallo che nitrisce qualsiasi cosa un creeper che che crea flatulenze esplosive non si sente un cazzo perciò ovviamente quel video cioè io non lo so si lo carico ma la gente tipo lo vedrà lo guarderà lo visionerà per tipo tre quattro minuti poi dirà ma che cazzo sta dicendo questo blebeo e lo chiuderà lo so già e vabbè di gvp dunque adesso direi che l'audio è regolarmente bilanciato si sente ne troppo poco ne poco troppo che non ha assolutamente senso però è la che ci frega allora io serio adesso io mi soffermo un attimo qui mi soffermo che poi non si dice si dice al massimo che mi fermo però vabbè fog the system e voglio fare altri blocchi perché voglio davvero contemplare la quantità di carbone che ho cioè siamo seri siamo seri poi siamo soltanto io cioè uno perciò non siamo sei la mia vita no mi sto perdendo non so neanche più da dove vengo vengo da qui no da qui o merda non lo so non è per dire niente però insomma anche il ferro sto cominciando ad averne una ingente quantità adesso esattamente quanto non lo so e perchè mi prende col ferro ok 64 più 6 porca troia ah no 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 tu sei lontano tu sei lontano via 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 puttana t'ho visto sa psss 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 no ah ma io qui ci sono già venuto cioè in realtà da qui io da qua ci vengo oddio dove cazzo sono mi sono perso no allora da là ok qui poi lì ma ci sono andato no non ci sono andato cioè non lo aspettavo ah era qui che stavo andando prima vero? non ricordo qui ho preso il carbone lì mi sono fermato uh un'orgia posso partecipare? eh una alla volta grazie avanti il prossimo avanti il prossimo avanti il prossimo ho detto oh 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 che culo ci è mancato poco senti tu torna dai tuoi amici grazie eravamo un attimo incazzati eh allora mettiamo io mi chiedo questa rosa sul serio uh ciao come stai amico sei la ti ha vendito l'ambulante rose 5 euro no grazie non mi interessa allora un attimino fermiamoci un attimino perché la cosa diventa a quanto fastidiosa ok mi so di mettere a posto dunque io ho messo il gioco in hard la furtizia perché adesso passerò i prossimi 20 minuti di questo episodio a picchiare zombie oh merda ehi ciao come stai? non ti guardo eh allora carbone basta scusa scusa un attimo sono subito da te aspetta innanzitutto chillo lui perché lui mi sta sul cazzo ok adesso chillo te ehm aspetta facciamo così perfetto vieni qua perchè non muore se lo colpisce i piedi? ah ok ok ovviamente non mi da ender pearl perchè se no sarei un negro cioè un smith cioè tu spiegami che ci fa questo qua serio? allora aspetta ok giù no fermo vai colpiscilo oddio ok t'ho visto sa? t'ho visto sa? ok tu? t'ho visto anche a te madonna quanti sono ok mi servono torce daffa che è successo? ok siamoci qua un attimo mi servono delle torce decisamente mi faccio mi sblocco un blocco così direi che per ora vanno bene i drop li mettiamo qua il carbonio lo lasciamo qua i drop qui assorre time hammered e torniamo alla carica allora qui qui si comincia a avere roba interessante mi piace mi piace davvero give me that shit bro thank you qua ferro ne ho tanto dovrò farmi un'armatura perciò in ogni caso è interessante oddio ho paura che mi cadano in testa oh cazzo allora giochiamocela molto safe ok la redstone qui ti ho visto eh non pensare che non ti ho visto però non venire qua grazie cioè almeno non ora ok aia 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 uh grazie è un po' rotto eh è un po' rotto eh però non mi dispiace non mi dispiace perché adesso io faccio così questo lo metto qui le frecce ne ho quattro e la cosa è ottima perché ho un sistema di difesa alquanto long range qui c'erano dei creeper una volta infatti è ancora pieno di gente ah eccolo lì sembrava oh uh oro uh altro oro ottimo ottimo questa caverna mi piasa dammi le frecce altro oro ok altri skelet altro oro oh ma che cazzo di cazzo di caverne trovo tieni la cosa migliore sarebbe tipo che adesso trovo lo stronghold in tutto questo sarebbe tipo OP tiè oddio che culo che c'ho ecco bravo state nell'ava allora andiamo a prendere tutto quello che ho trovato cioè oro e poi l'oro parliamoci seriamente a cosa cazzo serve tecnicamente ha una beata minchia parliamoci chiaro non serve a nulla dov'era l'altro qui ehi ciao amico come stai? sei un testimonio di geova vero? no non mi interessa beh non ti arrabbiare però si testimonio di geova carbon no sai lo sto prendendo no non lo sto prendendo no non lo prenderò devo resistere mi serve legna mi servono questi e facciamo no che cosa cazzo sto facendo oddio ok bene di là ci andrò dopo perché prima voglio andare a vedere aia no non mi sono fatto male però aia comunque voglio vedere che c'è di qua altro ferro altro carbone no me ne vado guarda ah no aspetta voglio vedere che c'era qui qui si sale carbone creeper grazie grazie no ok non mi interessa questa strada prendo soltanto il ferro che dov'era lo sono perso meglio eh no eccolo c'è io seriamente sono cello e lo 30 come cazzo it's possible it's possible to be possible mi servirà appena presto un altro piccone shit allora quanto ferro sto la madonna allora dove eh qui e ciao come sai bene tutto ok ok alla prossima aia no 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 non sarei cattivo mettiamo la torcia perché non voglio che spawnano allora si scende giù adesso perché ho davvero intenzione di esplorare là dentro anche se so che morirò ma tu prima mori tu grazie un altro arco grazie durabilità contro l'acca no contro l'acca com'era alt h non mi ricordo più assolta qui vabbè dopo dopo fammi nutrire non nutrire ok andiamo di qua perché c'è luce not bad allora ok qua è piuttosto sicura la zona sì posso scavare ok non c'è nient'altro a quanto pare io vorrei sapere tanto a che livello su oh mio dio oh c'è uno slime allora aspetta livello 22 facciamoci una scala facciamoci una scala e fare una scala baffanculo bene bene una scala alquanto strana però prendiamola bene allora aia aia muori mi si affida mi affida l'armatura sto prendendo davvero troppo danno adesso mi fermo e mi faccio l'armatura decisamente oh 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 yeah 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 maccaron giaccaron godo allora tu grazie muori anche voi grazie allora tu e nico amore mio oh uno due oh tre quattro cinque oh che culo no serio serio cioè io cioè boh io non ho parole c'è sbaglio o tipo però trovato sei diamanti sei sei allora adesso adesso non morire soprattutto non morire ho una bistecca sola e lì c'è un creeper poco poco io devo uscire fuori da qui non so come però devo uscire serio non so come allora anzitutto mi faccio un'armatura in ferro adesso tipo mi metto qua chiudo e mi faccio un'armatura in ferro adesso farò cuocere tanta di quella tanto di quel ferro che voi neanche potete immaginare facciamo così facciamo così e facciamo così bene e adesso metto a cuocere tanto di quel ferro che voi neanche potete immaginare allora facciamo così e facciamo così bene allora ci vediamo dopo quando ho finito allora intanto mi faccio l'elmo e questo è fatto avanti il prossimo poi ci facciamo le bistecche perché se questa è una stecca e questa è una stecca queste sono delle bistecche non fa una piega già ci facciamo i jeans griffa di levis che adesso mi danno il copyright perché ho detto levis levis e poi mi mancano mi manca che mi manca questa parte di merda qua ok sono passati qualcosa come 20 minuti dell'ultima clip mi ero scordato che stavo facendo cose su minecraft cioè mi ero totalmente scordato perciò praticamente ha cotto tutto il tutto il il ferro e ggwp a me che sono burbo perché adesso mi porto in giù tutto questo ferro così anche se non cambia niente però vada dunque adesso abbiamo una protezione decente piccone quasi quasi me lo rifaccio perché mia nonna che errutta come un vulcano cioè sono serio come un vulcano che pronuncia offese verso non so chi ovviamente verso di me perché caga il cazzo ma vabbè totalmente normale allora torniamocene all'avventura c'è nessuno? si può buccare? ok allora cerchiamo di tornare da dove siamo venuti però prima prendo questo tanta di questa allora facciamo così facciamo così e non può passare nessuno in teoria ok prendiamo la redstone perché mi serve cioè mi serve in realtà no però si diciamo che è free exp e poi perché non mi vai tornare qui dentro anche se ci dovrò tornare probabilmente perché è tipo la caverna dell'alibaba qui facciamo così ho flesciato altro diamante? no c'è lava anche sopra oh merda e cosa si fa? il quanto brutta che se mi cade lava in testa non è molto piacevole ehm come faccio? non mi sembra una buona idea quello che sto facendo però lo faccio lo stesso no 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 non rischio di farmi cadere ehi ciao tu come stai? guarda guarda è un creeper felice gli ho creato una via d'accesso per andare a trovare i suoi amici guardalo guardalo dov'è? oh ciao come stai amico mio? mmm si è un po' raffreddato eh tu? cosa desideri da me? bene anche io desideravo questo una via d'accesso grazie ok bene ancora peggio mia nonna è che ru e rutta o rutta penso che sia una combo personalmente vado qui perchè voglio trovare altri diamanti voi davvero avete scassato le palle e infatti sentila come ru e rutta che è una combo sempre oro creeper volanti voglio vedere se questo mi cade in testa secondo me lo fa ciao sono qui infatti bastardo oh grazie molto gentile ma perchè sono ancora qui allora io dovrei tipo trovare una via d'uscita perchè voglio altri diamants altri diamants qui give me the diamants why you don't give me diamants because you don't have it right? right ma prendiamo un attimo un po' di ferro per compensare diciamo l'armatura almeno per giustificare le spese ecco e quanto sto registrando? 17 minuti c'è praticamente un altro episodio in miniera c'è proprio ggwp well played honor team honor supporter honor tutto il cazzo che pesa in cula prendiamo questo gold e così mi faccio la bf sword no ok basta fare citazione di league of legend tanto la metà di voi non capisce neanche che cazzo è mi dai davanti non mi li dai ok bene direi che posso risalire anzi lo farò nel prossimo episodio a questo punto perchè se no ci metto troppo si decisamente bene allora direi che per questo episodio è tutto facciamo un saluto molto breve oh no però tu prima nori aspetta 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 oh c'era anche del diamante del diamante si vabbè dell'oro qui prendiamo questo ok e ne approfitto per killarti grazie perfetto ah altro horror prendiamolo dai ok allora io adesso farei soltanto un riassunto mettiamoci qui ok così allora vediamo abbiamo un ender pearl una flint che non c'era un cazzo aspetta fammi sistemare ok abbiamo 15 pezzi d'oro 51 più 24 pezzi di ferro 37 blocchi di carbone 64 e passa la pistola 64 e passa redstone gunpowder va bene 6 diamanti e un'armatura di ferro completa io direi gg vp dunque per questo episodio è tutto e ci vediamo al prossimo ciao stonzi fritti è un'errore che è un'errore che è un'errore Grazie a tutti Grazie a tutti